Buonasera ragazzi bentornati in questo nuovo video di openbox di minecraft e giuro solo controllo però va bene e comunque abbiamo fatto quella di Fortnite quindi per me non fare quello di minecraft allora vi ho solo risparmiato la parte di togliere questo che si era bloccato e questa busta quindi c'è chi se ne frega quindi io vi ho risparmiato tutto e sto già aprendo la busta no? guardate ragazzi guardate ok abbiamo fatto c'è vediamo cosa c'è ok abbiamo un post stavolta come vedete finalmente sono in camera mia vediamo cos'è penso che sia un post vediamo subito bene insieme lo vediamo ok e questo è il post molto molto carino non è assolutamente male il post magari lo mettiamo qui ah si può costruire un creeper infatti questo sarà il creeper ovviamente di carta non sarà fatto di lego roba così però sarà di carta che alla fine il creeper è magari sempre carino non lo farò vedere è costruito qui perché è un casino raga poi è noiosissimo poi così che abbiamo mi sono libero sì di come si crafte una cosa anche se a me non mi serve perché sinceramente non non usa col crafting lì quindi vabbè ci può stare ci può stare molto carino e vabbè ci sono tre libri infatti prendiamo subito 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 il secondo che è sempre questo dei biomi ci spiega un po' tutto cioè non tutto qua ci spiega come costruire questo qui ci spiega i biomi della mojang penso che sia ufficiale vedete mojang non lo so magari sono un po' di stupido io non lo so passiamo penso all'ultima cosa sì questa è l'ultima che vediamo subito cos'è che un po' ci spiega il minecraft cos'è ci spiega un po' cos'è anche cos'è tipo la magione come si fa e penso che questa sia la costruzione del creeper si vedete tipo qua ci spiega ci spiega un pochettino questi sono i tre libri che ci dovrebbe dare quindi li mettiamo qui e questa è la busta che vabbè non c'è niente e questo è il creeper come bisogna crearlo lo mettiamo qui e questo è il post mettiamo tutto qua dentro e chiudiamo di nuovo ovviamente io il creeper che fa i temi primi no infatti poi lo faremo è solo che non lo faccio nel video perché non c'ho cioè magari ci metterò due miliardi di anni ed è brutto perdermi lunghissimo e niente questo era il pacchetto di minecraft che abbiamo fatto di fort e allora ho deciso di fare pure questo ragazzi spero che il video è piaciuto ho lasciato un like sui video di campanile e ci vediamo in prossimo video bella ragazzola grazie a tutti grazie a tutti